Il nemico ha conquistato un avamposto. Abbiamo conquistato un avamposto. Il nemico ha conquistato un avamposto. Abbiamo conquistato un avamposto. Il nemico ha conquistato un avamposto. Abbiamo conquistato un avamposto. Le porte del castello sono state riparate! Le porte del castello sono state riparate! Siamo penetrati nel castello nemico! Siamo penetrati nel castello nemico! Abbiamo conquistato un avamposto! La principessa è stata salvata! Hanno sfondato le porte del castello! Il nemico ha la principessa! Il prigioniero sta scappando! La principessa è stata catturata! Il prigioniero ha conquistato! Abbiamo il prigioniero! Abbiamo catturato il prigioniero! Il prigioniero è stato potenziato! Il nemico ha conquistato un avamposto! Siamo penetrati nel castello nemico! La principessa è uscita di prigione! Il prigioniero è stato potenziato! La principessa è stata... Il nemico ha la principessa! La principessa è stata catturata! Abbiamo conquistato un avamposto! Abbiamo conquistato un avamposto! Abbiamo conquistato un avamposto! La principessa è stata liberata! La principessa è stata liberata! La principessa è stata liberata! Abbiamo conquistato un avamposto! Abbiamo conquistato un avamposto! Il nemico ha la principessa! Ma la principessa è stata soccorri! Siamo penetrati nel castello nemico! Sono nella nostra base, uccidono i nostri! Siamo penetrati nel castello nemico! Nemico, la principessa è stata rapita! La principessa è stata abbandonata! Il nemico è stato sconfitto! Ciao!